Ciao, ciao. Ora Ralli, che nel settore della pizzeria vanta un'esperienza lunga 40 anni, continuerà a sfornare le pizze assieme alla figlia e alla moglie, ma la rabbia monta. Le parole sono poche, niente aiuti, niente ristori, niente di niente. Il bar era un barrettino giovane, appena un anno, dopo tre mesi è arrivato il coronavirus e per carità del coronavirus, però ho dovuto chiudere. Se non mi aiuta nessuno, bollette, operai, tutto, io ho detto i debiti per lo Stato non li faccio, ho chiuso e basta. Però il bar di là è da pagare, per cui ho nella spalla 30.000 euro da pagare nelle spalle. Ok, l'epidemia c'è, capisco tutto, ma noi abbiamo bisogno di aiuto, di aiuto, perché si parla sempre di bar e ristoranti. Pizzerie, ci sono anche le pizzerie, non c'è solo i bar e i ristoranti, le pizzerie sono in difficoltà, prima almeno la prima volta questi 100 euro di qua di là, adesso cosa abbiamo avuto? Niente. Siccome che noi lavoriamo con l'asporto, loro pensano che ci è sufficiente, non è sufficiente, è un minimo dell'incasso. Io di là pagavo 1000 euro al mese, più l'operaia, più le bollette, più tutto, ho detto a un carissimo amico che fa il muratore, vieni, tiriamo sul muro, queste sono le chiavi, arrivederci e grazie. Ho sempre fatto successo, ho sempre avuto successo per i miei 40 anni, per la mia passione che ho per la pizza e per questo lavoro, ma poter chiudere per non causa mia, per cui non per un mio mancato, per sbaglio mio, ma per gli altri, di notte non dormo, mi dà proprio fastidio. E l'appello con voce mista tra delusione e rassegnazione lo fa direttamente ai suoi colleghi. Non dovete avere paura di chiudere, lo so che è un parolone brutto, ma date rete a me, non fate debiti per il governo, a tenere duro teniamo duri tutti, come si dice Tembota, però non vi sentite sconfitti se dovete chiudere, perché è meglio per il vostro futuro.